Sono Emma Miconi, sono presidente di Fondaca, Fondazione per la Cittadinanza Attiva, un team tank di ricerca che è nato in Roma nel 2001 e sono qui per introdurre lo strumento del dibattito pubblico nell'ambito più ampio del dispositivo della cittadinanza democratica. Quando parliamo di cittadinanza facciamo riferimento ad un fenomeno, diciamo ad un'invenzione dell'era moderna da quando ci si è posti il problema, la questione di come far convivere enormi masse di persone che non si conoscevano, che non avevano nulla in comune in territori molto ampi e quindi una cittadinanza moderna definibile come un dispositivo dinamico, quindi come una macchinetta che serve per fare delle cose e a che cosa serve? Nello stesso tempo ci serve per assicurare inclusione, coesione e sviluppo delle nostre società in chiave di uguaglianza di status, di diritti e di doveri ma anche di possibilità di concorrere a stabilire le finalità e le regole della nostra comunità politica, delle nostre comunità politiche. Le componenti della cittadinanza sono tre, sono fortemente legate tra di loro, c'è il primo che è quello dell'appartenenza, quindi l'essere parte, essere riconosciuti come parte di una comunità ma anche il sentirse parte e quindi gli status legali, sociali ma anche l'identità, i diritti e di doveri e la partecipazione. Abbandonando forme tradizionali, definizioni tradizionali di partecipazione ereditate dallo scorso secolo perché ne sono messi in crisi continuamente diciamo sia i contenuti che gli attori che il perimetro, oggi possiamo dire che la partecipazione riguarda il concorso dei cittadini alla definizione come anche alla messa in opera delle finalità, degli standard e delle regole di convivenza e di cooperazione come anche dei programmi e delle attività che sono connessi all'interesse generale e questo avviene attraverso una molteplicità di forme ma anche di procedure e anche di modalità di carattere operativo e collettivo. C'è una ricca struttura di opportunità di partecipazione che non sono per nulla tutte uguali. Una cosa importante quando si parla di partecipazione è domandarsi sempre la partecipazione di chi, a che cosa, in che modo, per fare cosa e specialmente con quali effetti e cioè alla fine è successo qualche cosa? Le arene della partecipazione sono tre, cioè sono tre i contesti in cui anche i cittadini possono operare per far valere sia in forma di collaborazione che di conflitto le proprie priorità e queste sono l'arena politico-elettorale, quella del dibattito pubblico in senso lato ed infine l'arena delle politiche pubbliche. Le forme attraverso le quali i cittadini possono partecipare sono la partecipazione elettorale ai partiti e agli strumenti della democrazia diretta, la cittadinanza attiva e la democrazia partecipativa. Ed è qui che si situa lo strumento del dibattito pubblico e per questo motivo facciamo un brevissimo approfondimento sulle caratteristiche della democrazia partecipativa, che riguarda sempre un'iniziativa delle istituzioni per la formazione delle politiche, consiste in attività di dibattito e di discussione molto focalizzate sugli output, vede un primato della dimensione individuale, vede i cittadini come attori e amministrativi che partecipano all'attività istituzionale esprimendo un diritto alla consultazione. Le cose dette sono state veramente molto brevi e molto sintetiche, volendo approfondire potete visitare il sito di Fondaca, fondaca.org, oppure scrivermi all'indirizzo mail e punto amiconichiocciolafondaca.org. Buon lavoro!